SEGA PEGI 18 SEGA 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 Mary, abbiamo avuto due civvies sull'estate. Sì, signor. Uno, Ellen Ripley e Carter J. Burke. Ripley ha i ultimi due entrambi, sia entrambi e entrambi un criotube. Mi ha detto che la parte che abbiamo trovato con i piedi? C'è qualcuno che ha avuto l'atmosfero in Hadley's Hope privato. Signor, in due respect, non ci siamo arrivati nulla di questo computatore. Privato, stai suggerendo quello che credo stai suggerendo? Sì. Siamo in. Siamo in.